Esiste una linea incredibilmente sottile tra la ragione e la pazienza, endemica di tutte le culture. Il professor Muckles? Posso aiutarla? Lo spero. Ha mai sentito il termine multi detective? No. Esuru significa medicina, ma ha anche un significato più oscuro. Mi chiamo Terry. Mi piacciono i tuoi occhi. Uomini d'affari, politici, le persone che pagano per il muti sono alla ricerca di successo personale. Non mi serve il suo aiuto, è lei che ha bisogno di me. Il sangoma releva gli organi che gli interessano, mentre la vittima è ancora viva. Più intensi sono le uomini. Più grande è il potere del muti. Grazie.